Amici 2017 18 anticipazioni, svelate le due prof di canto Giussi Ferreri e Paola Turci, i nuovi prof di Amici di Maria De Filippi. A lanciare lo scoop del giorno ci ha pensato Davide Maggio, rivelando in esclusiva i nomi dei nuovi professori di canto di Amici di Maria De Filippi. Quest'anno, la conduttrice di punta di Canale 5 ha deciso di puntare su Giussi Ferreri, famosa cantante lanciata da X Factor, e Paola Turci, recentemente ritornata al successo grazie alla sua partecipazione al festival della canzone italiana. Il nome dell'interprete di Fatti Bella per te sembrava essere quasi nell'aria, visto le sue recenti apparizioni nei programmi condotti da Maria De Filippi, mentre nessuno si aspettava di vedere Giussi Ferreri all'interno del cast del talent show di Mediaset. Un fulmine a ciel sereno, che ha spiazzato tutti i fan del programma. La sezione dei docenti di canto è stata completamente rinnovata, l'unico professore riconfermato è stato Rudy Zerbi, che collabora con la conduttrice anche a Tussi Q e Vales. Paola Turci ricoprirà per la prima volta il ruolo di insegnante, il pubblico di Amici di Maria De Filippi sui social appare decisamente soddisfatto di questa rivoluzione portata in atto dalla conduttrice del talent. Avevano voglia di cambiamenti e la presentatrice, come al solito, non ha deluso il suo fedele pubblico. Paola Turci e Giussi Ferreri nel cast di Amici 2017-18, ecco cosa faranno. Proprio ieri vi avevamo parlato della probabilità che Rudy Zerbi non fosse stato riconfermato ad Amici 2017-18, invece Davide Maggio ha rivelato in anteprima che il presentatore farà nuovamente parte del cast del programma di successo di Canale 5. Giussi Ferreri e Paola Turci sono pronte a iniziare questa nuova avventura insieme. Sarà interessante per il pubblico da casa vedere il passaggio fatto dall'interprete di Non ti scordar mai di me, prima concorrente di un talento e poi coach televisiva. Stavolta toccherà a lei aiutare i ragazzi ad allenare il proprio talento e ad aiutarli a realizzare il loro sogno nel cassetto. Amici 2017-18 è pronto a tornare con il botto. Con un cast di docenti formato da Giussi Ferreri e Paola Turci, sicuramente il programma andrà a guadagnarci nel settore qualità, offrendo ai ragazzi un supporto maggiore da chi nel mondo della musica ha una carriera ricca di successo. Maria De Filippi, ancora una volta, è riuscita a stupire i suoi telespettatori. Sul web sperano che le due nuove arrivate non ripetano il percorso intrapreso da Morgan durante la scorsa edizione del talent, ma noi siamo sicuri che faranno senz'altro un buon lavoro.